buongiorno sto facendo il video ma ho problemi su internet per cui non sto aggiornando dati notizie eccetera lo faccio su quello che ma penso non ci siano grossi aggiornamenti su quello che si è letto stamattina sui giornali o si è preso da certi siti no questa pretesa di dibala di avere i soldi dalla juventus di 3 milioni e 7 che sarebbero la quota che gli manca dello stipendio della manovra stipendi qui ci sarebbe anche una carta segreta dibala non lo so comunque dibala tutto il diritto di prendere questi soldi era stato pattuito quindi io adesso leggo appunto che comunque non dovrebbe pretenderli come si sta comportando eccetera allora dal punto di vista puramente legale è se questi soldi sono stati pattuiti e deve riceverli è ovvio che si stia muovendo per ricevere questi soldi adesso dovrebbe aspettare fino ad aprile lui dice se non arrivano ad aprile si muoveranno gli avvocati ma è normale cioè io non ci vedo niente di strano in tutto questo anzi lui ha anche detto a un certo punto spero di non arrivare a questo perché vorrei non vorrei creare problemi alla juventus eccetera 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 non mi stupisco cioè ripeto è una una prassi lineare tu juventus mi devi 3 milioni e 7 adesso io voglio 3 milioni e 7 ronaldo è in debito a quanto pare di 19 milioni rotti e chiederà 19 milioni rotti cioè questo fa tutto parte della della prassi della normalità io credo chiunque di voi o me compreso dovesse avere un debito un credito scusate nei confronti di un'azienda per la quale ha lavorato chiederebbe all'azienda di pagare il debito no cioè ma mi sembra del tutto normale quello che no mi tocca dire che sia anche in questo caso normale è la famosa tempistica della quale ci siamo già occupati diverse volte perché guardate che è sempre così la situazione di dibala è emersa tempo fa cioè voglio dire non è una cosa di adesso viene rivelata adesso che partita c'è domenica casualmente c'è Roma juventus casualmente c'è Roma juventus allora la cosa di dibala è meglio tirarla fuori adesso meglio per chi pensa che sia meglio tirarla fuori adesso allora io penso che l'indice di destabilizzazione di una la percentuale di possibile destabilizzazione di una notizia come questa nei confronti della partita sia molto bassa anzi io penso che gli ex compagni di dibala in realtà dicano che dibala fa bene a pretendere questi soldi da una società visto che gli vengono ok quindi ripeto io credo che inciderà possa incidere ben poco ben poco sulla sulla juve che deve giocare a Roma contro la Roma ma diciamo così probabilmente di fronte a una juve che ha ricominciato a vincere e ha ricominciato a vincere queste quattro partite di campionato evidentemente va bene qualunque cosa per provare anche un 1 per cento di possibilità di destabilizzare bisogna giocarselo bisogna giocarselo poi magari la juve perde a Roma la juve perde anche le altre le perde quattro di fila perché questo è il gioco del calcio vinci pareggi o perdi ok e questo è il campo che decide il campo che è sempre il campo che decide ok in ogni caso qualunque situazione si verifichi quest'anno per i ragazzi che scendono in campo saranno i punti conquistati sul campo che conteranno per i ragazzi che hanno corso sul campo che si sono sacrificati durante la settimana a fare il loro lavoro ci mancherebbe altro a fare allenamento e poi a dare il meglio di se stessi sul campo sul campo vinci sul campo pareggi sul campo perdi il conto alla fine saranno i punti sul campo su questo questo peserà sul giudizio della squadra giudizio sull'allenatore e tante altre situazioni che verranno poi considerate alla fine della stagione considerate alla fine della stagione ok poi naturalmente la propria valenza particolare l'avranno due competizioni una l'europa league che adesso si appresta al doppio confronto con il Friburgo due la coppa italia ma due solamente in ordine di tempo la coppa italia perché il quattro se non sbaglio il 21 di aprile si giocheranno le semifinali contro l'inter è chiaro che anche questi avranno un loro grosso peso sul giudizio finale di questa stagione ma ripeto ancora una volta a prescindere da quello che possa succedere davanti al collegio abitale del coni e quello che possa succedere a prescindere a quello che possa succedere successivamente cioè a maggio giugno quello che sarà conteranno per i giudizi i punti fatti da lui sul campo il campo che in questo momento sta dicendo che la squadra è seconda in classifica praticamente che sta migliorando il piazzamento dell'anno scorso sta migliorando il rendimento dell'anno scorso quando facciamo tutti questi discorsi vorrei che fosse premessa anche una cosa l'eccezionalità del campionato che sta facendo il Napoli perché bisogna riconoscere i meriti al Napoli quello che sta facendo è super super straordinario una squadra che in questo momento ha tutti questi punti di vantaggio e che può vincere il campionato con tre quattro cinque sei sette non lo so quelle che saranno giornate alla fine è tanto di cappello in questi casi ragazzi qui l'anomalia non è una Juve che può arrivare a seconda terza o quarta l'anomalia in senso positivo per il Napoli è il Napoli che arriva primo con questo rollino di marcia con questa forza con questa consistenza è una squadra perfetta in questo momento praticamente è perfetta perché funziona tutto nei minimi particolari praticamente tutto nei minimi particolari e quindi è giusto che sia così ma questa è una premessa che spesso si omette anzi quasi sempre si omette quando si vuole criticare l'andamento della squadra lo dico per chi ti fa Juve lo dico probabilmente anche per chi ti fa Inter eccetera cioè o Milano quelle altre che seguono che sono là dietro perché la Juve insieme a Milano e Inter la classifica dice la classifica di campo dice che la Juve è lì ecco ma bisogna tenere conto bisogna tenere assolutamente conto del Napoli di quest'anno e del Napoli che probabilmente sarà anche quello a venire perché non credo che sia episodica un'annata di questo tipo ok quindi il campo è una cosa poi tutto il resto sono altre cose sono uscite anche queste guarda caso ancora perché si avvicina naturalmente è stato presentato il ricorso al collegio arbitrale allora adesso bisogna uscire con tutte le cose che forse già si sapevano ma bisogna farle uscire adesso Lombardo l'ex dirigente che parla di paratici come di colui che è stato colto dalle dire di onnipotenza e si sentiva in grado di fare tutto anche il mercato per gli altri operazioni plus valenze eccetera 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 esce adesso però ragazzi allora bisogna essere sempre intellettualmente onesti se tutto questo fosse provato se tutto questo fosse provato ok e beh insomma i margini per incazzarsi con fabio paratici credo che ci sarebbero cito fabio paratici perché l'ha citato Lombardo ma per incazzarsi comunque con la vecchia dirigenza ci sarebbero i margini se tutto questo verrà provato ok se tutto questo verrà provato la differenza che in sede penale dovrà essere provato in sede sportiva basterà quello che ha detto Lombardo e torniamo al solito discorso di quanto sia aberrante questa ingiustizia sportiva non si chiama giustizia sportiva si chiama casual giustizia ecco diciamo così ok parlo di procedure non di sentenze di procedure ok di procedure perché la sentenza di condanna si può accettare se arriva al termine di una procedura che ha concesso alla difesa di difendersi e all'accusa di esaminare non con una relazione veloce 14.000 pagine si deve prendere sei mesi di tempo per guardare 14.000 pagine non mezza giornata fondandosi magari su una relazione già scritta ciao ciao iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera